pochino non li ha metto via voce? non rispondo l latino si vorrei ordinare i 4 di come? a nome di tutti ok, però ascolta le 10 devono finire alle 9 eh? alle 9? alle 9 alle 9 alle 9 e 9 tardissimo e' certissimo e' certi 10 ok, bene quelli 7 10 si ok una di un cell si crostino si mais si una cumola grave e frusciutto una cumola grave e frusciutto crudo si una cumola grave e frusciutto crudo va bene? e' un secondo che c'era un altro suci Deborah suci Deborah va bene? ti i si ti i lasci r pi 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 è qui